ciao a tutti buona giornata buon lunedì 13 marzo si sente proprio la primavera oggi questo lunedì è già stato ricco di molte sorprese molti avvenimenti e questi momenti che viviamo che ci sorprendono ogni giorno non li possiamo controllare ma possiamo lavorare su come noi reagiamo a una data situazione e questo lavoro instancabile quotidiano che ripeti da anni con una grande centratura un'intenzione di essere centrato e di essere sempre più sicuro di te quel desiderio di migliorarti ogni giorno che un migliorare che non mette in discussione quello che eri ieri ma che porta a una crescita a una comprensione più grande di quello che vive ogni giorno e ciò ti permette anche di viverlo meglio dunque dicevo che ci sono delle situazioni che viviamo che affrontiamo dobbiamo affrontarle con la testa alta con grande amore con quell'impeto quella voglia di vivere che quello che fa la differenza quella consapevolezza della perfezione di ogni istante che che si presenta nella tua vita questa mattina ne sono successe tante di cose come diciamo che tutte mi hanno insegnato qualcosa e una ha portato all'altra e poi porterà ancora qualcosa d'altro e questo meraviglioso viaggio che siamo chiamati a svolgere qua su terra lasciando andare un po la nostra necessità di controllare tutto di sapere dove andremo dove saremo chi saremo cosa siamo qua a fare per intanto fai fai quella cosa fai quell'altra cosa e sorridi è una filosofia di vita nell'azione concreta con una grande fede e con dei risultati che realizzi ogni giorno un caro saluto a tutti e a tutte e a tutto